Ben a rimbalzo per Brux Milano comunque mantiene i 17 punti di vantaggio che è un vantaggio straordinario Cleiza da 3 dall'angolo, quei fila non li sbaglia mai aver realizzato 44 punti è davvero tanto Ragland vuole attaccare spazio per Cleiza in angolo da 3 è troppo facile per Linas 15 a 6 nel secondo periodo per Milano con Ragland ancora per Cleiza si alza dall'angolo, sessione di tiro per sua maestà Linas ha vissuto i suoi fastidi maggiori con la maglia di Torino negli anni 80 gentile per Cleiza che vuole attaccare Cinciarini palleggio sul volto, si muove neanche la rete già 65 per Milano dopo 23 minuti Hackett riapre per Cleiza nell'angolo da 3 sessione di tiro che va avanti per Cleiza 18, 3 su 3 da 2, 4 su 5 Laia con una certa età ha avuto anche attacchi scusatemi, abbastanza gravi e tutto più difficile per lui Cleiza, incredibile adesso Menetti Cleiza ritira e insegna in faccia Bravo qui Polonara a sfruttare il suo atletismo prova a sfruttarlo anche David De Moss sul passaggio di Hackett Intanto Linas Nelle mani di Gentile il pallone, 7 secondi Gentile per Cleiza, si alza ancora Linas Cleiza 7 su 8 dall'arco dei 6 e 75 Più bisogno di lui per assurdo Sandro, se vogliamo fare un pensiero che può essere negativo Linas Cleiza, irreale questa sera 3 8 Grazie a tutti.